Buongiorno a tutti, oggi è giovedì, 2 maggio, sono a un piano di controllo ai piccioni, sono su un terreno seminato, a soia, mi sono appostato di fianco a un vecchio rudere disabitato, crollato, è un terreno di una persona che conosco che mi ha chiesto di fare questo piano di controllo, ci sono diversi piccioni che girano perché lì c'è una montagna di letame, insomma, quindi abbiamo diversi piccioni che sono già abituati a pasturare in questa zona e ovviamente col campo seminato diventano ancora di più. Adesso ho messo giù un gioco qui davanti, cerco di farli arrivare tutti qui più o meno a tiro, direi che non dovrei dare fastidio a nessuno, quindi dai, speriamo. Uno Porca miseria che è Ecco, sono le 5 e mezza, una giornata abbastanza ventosa, Non stanno girando molto, se ne vede qualcuno, uno l'ho sbagliato, purtroppo forse mi sono messo un po' male, però il vento praticamente fanno il giro da dietro le spalle, poi prendono il vento e arrivano di qua. Ho il tiro un po' coperto perché non voglio assolutamente sparare contro la casa, anche se è tutta mezza e crollata, quindi ho solo questo angolo qui per poter sparare. E insomma, ora che li vedo, ora che mi alzo ho una fucilata, uno l'ho già preso, sto usando il 410, insomma spero di riuscire a fare qualche abbattimento, uno l'ho preso di prima, sono abbastanza contento, morto, spento. Niente, vedi, ansia riusciamo ad avere qualche, qualche altra, qualche altra occasione, penso di sì. Poi dopo, questo è un giro così di perlustrazione, ho un'oretta, un'oretta e mezzo, mi sono ritagliato questo tempo per fare intanto una prova, poi dopo, la prossima volta magari me la studio un po' meglio, perché di piccioni ce ne sono diversi, ce ne sono parecchie decine. Questo si era proprio messo dentro gli stampi. Anche questo è fatto. Non so perché, da fermo non ci prendo. Questa l'ho sbagliato malamente, ma ho avuto fretta, perché si sarebbe buttato. Porca miseria. Vedi anche quello là torna indietro. Porca miseria. Questo si era messo in mezzo agli stampi, anche questo. Porca miseriaccia. Anche questo ha fermato di seconda. Sempre meglio di niente. Pian pianino magari inizierò a prenderci. Solo che non è semplice. Non è per niente semplice. Ok, allora, sono le sei e mezza. Inizio a tirare su tutto, perché, come sentite, si sta alzando un gran vento. Doveva calare, ma in realtà sta aumentando. E sta portando in qua un nero, insomma, che non promette niente di buono. Quindi, adesso tiro su i miei quattro stracci. Insomma, quattro abbattimenti, diverse occasioni. Sono contento, perché almeno sto prendendo un pochino di fiducia con questo fucile. Questo era solo una prova per venire poi un altro giorno di questi e fare le cose con più calma. Sicuramente questo non è il posto adatto. Bisogna mettersi forse in mezzo al letame, perché vedo che pasturano molto di più lì. Insomma, però, intanto, col 410 qualcosa ho fatto. Ho sparato delle cartucce da piattello, quindi sette e mezzo. Erano tutti i tiri abbastanza facili, tutti in mezzo agli stampi, però, dal non prenderci, almeno qualcosa è venuto giù. Quattro piccioni, quattro animali. Potevano essere due o tre in più, però non c'è male. Prossima volta cercheremo di fare meglio. Nulla, adesso in fretta tiro su tutto. Niente, direi che per questo video è tutto. Noi ci riaggiorniamo al prossimo video.